Signore e signori buonasera e benvenuti a tutti da Stefano Corvi a questo webinar di domande e risposte sulla piattaforma di Interactive Broker. Come avete visto in questi venerdì stiamo un po' dando il cambio al nostro mitico Davide che non è sparito, semplicemente si sta occupando di un altro super progetto che potremmo rivelarvi solo dopo quest'estate, quindi in questo caso andremo anche un po' ad affrontare tematiche un po' più specifiche rispetto alle classiche domande e risposte, il mio invito comunque è di postare qua tutti i vostri dubbi che comunque andremo a rispondervi a tutte le vostre domande. Parallelamente ognuno di noi si concentrerà in ottica un po' di quella che è la sua operatività, così tutti coloro che decidono di ottimizzare la piattaforma in merito a opzioni e spread riescono comunque a ottenere la massima potenza di Interactive che come sapete è una piattaforma altamente performante, ci sono tantissime funzioni, noi stessi ne utilizziamo un 10% ma vi assicuro che può fare davvero la differenza. Oggi daremo un'occhiata oltre alle vostre domande che vi invito intanto a scrivere in chat, così che poi andiamo a ottimizzare la sessione. Da lunedì, l'abbiamo già accennato ieri, poi vi arriverà anche nella classica agenda, vi invito ad andare su assistenza brokers.it a vedere nel calendario degli eventi, partirà, anzi tornerà la mia rubrica tra Europa e America, quindi ogni giorno alle 15 andremo a fare un'analisi di contesto e pre-market utilizzando i volumi, vedremo i principali indici americani, quindi l'S&P, il Nasdaq e il Dow Jones, come si sono piazzati, le news macroeconomiche della giornata che potrebbero interessare il titolo e da lì le soglie operative sia a rialzo sia a ribascio per effettuare la nostra operazione in intraday. Quindi vi aspetto numerosi lunedì, l'accesso è libero a tutti, poi da lunedì prossimo inizierà invece un mese di trading dal vivo con quello che è stato il mio maestro, è tuttora il mio maestro e ci divertiremo un sacco. Quello però mi dispiace ma è praticamente pieno e dovrò rimandarvi se esisterà a una prossima volta. Allora, partiamo da una visualizzazione, qualche funzione in più sulla piattaforma che magari un po' più nascosta non siete abituati ad effettuare. Tanto vedo che state scrivendo delle domande, perfetto. Innanzitutto abbiamo tenuto qua il nostro future dell'S&P che è quello su cui andremo a lavorare prettamente nelle sessioni di late trading insieme a quelle del Nasdaq, questo perché è uno dei future più scambiati a livello mondiale, se non il future. Veniamo da una situazione un po' al limite, nel senso che proprio io sono un amante dell'intraday, già nell'intraday si vede ma anche nel multiday siamo di fronte a un periodo di veramente bassissima volatilità. Ho detto volatilità in termini di scambi perché la tendenza è indubbiamente positiva per tutti i mercati, quello che invece sta rimanendo un po' alla porta sono gli scambi. Solitamente eravamo di fronte a giornate, andiamo a aumentare un po' l'arco temporale, candele giornaliere a prescindere ovviamente da qua che il future di giugno non era ancora interessato, fino all'anno scorso una media giornaliera per quanto riguarda lo standard in pure era di almeno 2 milioni, 2 milioni e mezzo di contratti. Guardate qua questa situazione, questo valore si è raggiunto solo in un paio di situazioni e qua siamo al 29 di aprile, diversamente se dobbiamo tracciare proprio una media di quelli che sono stati gli scambi siamo intorno al 1.25 milioni quotidiani e negli ultimi giorni ancora di più abbiamo scambi quotidiani nell'ottica del milione. Questo è un importante campanello di allarme sia in un'ottica intraday perché ovviamente dobbiamo muoverci in una maniera diversa, se siamo abituati ad alta volatilità, alti scambi, tendenzialmente qualsiasi titolo su cui andremo ad operare avrà delle soglie tecniche molto più rispettate sia in termini di rotture di determinati range, sia in termini di inversioni. In questo caso stiamo assistendo a un mercato americano sempre più verso nuovi massimi segando via praticamente tutti coloro che sono un anno e mezzo che sono short e continuano a dirmi tanto adesso deve stornare, tanto adesso deve stornare, pian piano li sta facendo fuori tutti e parallelamente si sta muovendo su un canale rialzista che non è mai definito, è sempre macinando nuovi massimi su nuovi massimi e questo ne va molto a risentire sulla volatilità. In parole un po' meno tecniche tutti quelli che vorrebbero andare short non ci vanno perché vedono che comunque il mercato continua a salire, tutti quelli che vorrebbero andare long non vanno long perché dicono siamo già a 2131 e vi assicuro che per l'SMP è un massimo storico non indifferente morale della storia cosa fanno? Vanno su altri sottostanti oppure tengono la liquidità sul conto preferendo non investire aspettando che ci sia un movimento e questo è tradotto come potete vederlo proprio alla luce di tutti in scambi molto molto più diluiti e quindi di conseguenza anche una volatilità. Ecco perché, qua mi rivolgo soprattutto a chi fa in 3day, è fondamentale non tanto strutturare un metodo ma imparare a leggere il mercato perché ci sono fasi di mercato che possono durare anche un anno, un anno e mezzo in cui il mercato prende una determinata direzione, noi abbiamo la nostra metodologia che statisticamente ci paga con un tot di percentuali che possono variare ovviamente da investitore a investitore, pensiamo di aver raggiunto il punto massimo della nostra carriera perché effettivamente anche i risultati sono dalla nostra, poi il mercato cambia le sue dinamiche e noi siamo lì in ermi che non sappiamo minimamente cosa fare perché il metodo che fino a quel momento lì ha funzionato, non funziona più, scatta la frustrazione, scattano le incazzature, si aumentano i size per cercare di recuperare si vanno a sperimentare nuove operatività che magari non stanno né in cielo né in terra però lo si va a fare perché siamo disperati di cercare di trovare quella confidenza con lo strumento che pensavamo di avere in realtà non abbiamo più e lì cominciano poi i disastri che nell'intraday sono molto più amplificati perché ovviamente non ci confrontiamo più come dico sempre con operazioni del medio-lungo termine che comunque anche psicologicamente sono facili da digerire, qua giorno dopo giorno ci confrontiamo con un profitto con una perdita, quindi è tutto molto più amplificato, se non abbiamo la disciplina, la costanza di comunque reggere a livello psicologico diventa poi molto ma molto difficile. Di conseguenza se invece impariamo a leggere il mercato andremo a riadattare il nostro metodo a seconda di come il mercato si sta muovendo e quindi lì sì che raggiungeremo la massima aspettativa di un investitore ovvero si riadatta al passare del tempo per cui parlando di intraday mi raccomando ok che avete il vostro metodo che anche in questo momento sta funzionando buon per voi cercate sempre di non accomodarvi a fare la stessa identica cosa ovvero ho due candele rosse arriva una verde, è un'inversione, compro eccetera eccetera ma cercate sempre di leggere dietro le quinte del mercato perché arriverà un giorno che le dinamiche cambieranno e voi non sarete più in grado di replicare quel metodo ma dovrete inventarne uno di nuovo. Se per qualcuno che fa multiday questi concetti non sono tanto chiari vi faccio un esempio lampante anche su multiday, se vedete il mondo delle opzioni dal 2011 al 2012 c'è stato questo tremendo abbassamento di volatilità che comunque gli opzionisti hanno abbastanza sguazzato negli ultimi anni vi assicuro che prima del 2011 non era così, chi è qua da diversi anni lo sa bene prima la volatilità era molto più elevata, c'erano molto più opportunità ma anche si rischiava pur prendendo strike molto lontani di andare in situazioni abbastanza vicine a quelle che sono il nostro punto di non ritorno. Negli ultimi anni la volatilità si è molto abbassata e quindi gli opzionisti che sono nati post 2011 hanno convissuto con un abbassamento di volatilità e quindi hanno strutturato i loro metodi a seconda di questa tipologia di movimento del mercato. Poi a ottobre quando già c'è stato, vediamo se riusciamo a vederlo da non su proprio quello di dicembre ma su una cosa un po' più continuativa a ottobre, eccola qua, vediamo se riusciamo a vedere quello dicembre, novembre eccolo qua, guardate innanzitutto i volumi come sono aumentati vedete che quando c'è volatilità, guardate qua siamo a 3 milioni di scambi è questo l'S&P che io ho conosciuto quando iniziavo a tradare e in questo caso è diventato un fenomeno più unico che raro perché la volatilità si è abbassata e c'è poco da fare in questo caso tanti opzionisti sono stati segati via perché il mercato non è che ha stornato perché in termini percentuali parliamoci chiaro, ha perso un 7% in una settimana chi è qua da tanti anni sa bene che sono cifre veramente basse per essere considerato uno storno però è aumentata la volatilità, sono aumentati gli scambi di conseguenza tutti coloro che erano accomodati a un'operatività tranquilla si sono trovati totalmente spiazzati poi fortunatamente per loro la tendenza è tornata ancora in bassa volatilità ma come vedete bisogna conoscere il mercato che c'è dietro e a mio modesto parere i volumi ci danno una grandissima mano sia in ottica intraday che come io li vado ad utilizzare per portarmi a casa quotidianamente la mia pagnotta sia in ottica multiday perché comunque ci danno una percezione di come un determinato titolo si sta muovendo e riadattando nel tempo quindi teneteli in considerazione e se proprio dobbiamo andarlo a vedere a livello di piattaforma vi invito a qualsiasi sottostante voi andiate a tradare a parte che quelle delle opzioni che lì hanno un movimento molto particolare l'opzione in sé ma il sottostante dell'opzione invece tenetelo guardate sempre il movimento dei volumi come si comportano perché proprio anche a un occhio iniziale vi danno già delle indicazioni importanti di quello che sta succedendo quindi qua vediamo movimento, ho preso la classica Apple quando buttano fuori gli earnings ce ne rendiamo subito conto perché vedete gennaio, aprile ci sono gli earnings quindi se dovrò mettere su una strategia magari in opzioni solo partendo dal sottostante io so già che se qua c'è stato gli earnings posso impostare sì una strategia nei prossimi magari due mesi stando attenti a non finire che la mia scadenza sia prima del prossimo altrimenti con questo aumento di volumi rischio di una strategia veramente ottimizzata che vada a farsi benedire perché il titolo pubblica quelle che sono le trimestrali oppure avete visto anche nell'analisi tecnica di Corrado che lui è molto specializzato sui titoli italiani e comunque guarda molto tra le altre voci i volumi spesso un incremento abbastanza repentino di volumi corrisponde anche a un movimento opposto a quello del trend che si era verificato in quel momento sta succedendo effettivamente qualcosa può essere una giornata un po' anomala per quanto riguarda il titolo ma in determinate situazioni ci danno un campanello di allarme che effettivamente c'è un maggior o un minore interesse su quel titolo e da lì quindi possiamo andare ad ottimizzare quelle che sono le nostre possibili entrate da una parte e dall'altra quindi mi raccomando aggiungete sempre questa colonna relativa ai volumi che la potete vedere sia in ottica di movimento giornaliero quindi per ogni candela esattamente come si sta muovendo da una parte per ogni giorno diversamente possiamo anche utilizzarla in altri modi come la visualizzo io e ve lo vado a illustrare adesso ad esempio utilizzando eccoci qua il sottografico volume scusate l'istogramma volume sempre dal menu visualizza qual è la grande differenza tra il sottografico volume e l'istogramma volume che richiamate entrambi dal menu visualizza questo che trovate in basso per ogni candela vi va a dire esattamente quanti scambi sono stati effettuati quindi una volta che voi avete fissato il vostro time frame qua siamo di fronte a un due giorni e cinque minuti quindi stiamo visualizzando potenzialmente questa che è la giornata di ieri incluso per market vedete va dalla mezzanotte qua dove la seduta americana apre tre e mezza vedete come c'è subito un'impennata dei volumi mentre prima non se li fila nessuno l'abbiamo visto l'altro giorno anche nella preparazione del trading club tendenzialmente si viene a creare una sorta di sorriso che poi ovviamente non è sempre rispettato perché non è una scienza esatta al mercato però c'è il picco iniziale pian piano i volumi vanno a erodersi salvo particolari situazioni come in questo caso qua è dove gli americani vanno a mangiare quindi un po' di quiete e poi c'è la botta finale in prossimità della chiusura data ovviamente da tutte le posizioni intraday che per ragioni di margine o altre mille motivazioni devono essere chiuse per cui tutti i traders cercano di aspettare gli ultimi 5-10 minuti per cercare di ottimizzare la loro posizione quindi è fisiologico che nei minuti iniziali barra minuti finali ci sia sempre molta più enfasi che durante la giornata e poi lo vedremo quando andremo a approfondire i volumi qua nei primi 5 minuti e qua negli ultimi 10 è anche sconsigliato operare perché molte delle dinamiche del prezzo prescindere da tutte le righe che potete tracciare con l'analisi tecnica vanno un po' a farsi benedire Gianluca certo dal menu visualizza del tuo grafico hai sotto grafico volume e vai a vedere proprio questa visualizzazione di volumi che è data dalla singola candela poi vedete qua in questo è il pre-market di oggi anche qua il nulla totale ovviamente qua 14.30 vedete questa bella candela un po' anomala perché c'è stato non mi ricordo se c'è stato diverse conferenze oggi ho parlato la Yellen ho parlato un mezzo mondo ecco perché vediamo così tanti scambi fuori dal normale orario di trading e poi qua alle 3.15.30 la consueta partenza che poi salvo questa candela qua che il titolo ha recuperato una scusate ha avuto un'accelerazione di scambi vedete che anche qua la tendenza è verso il basso per poi vedrete stasera andate a verificarlo entro le 22 aumenterà verso i nuovi massimi siamo comunque in un territorio di scambi veramente veramente ridicoli con titolo inchiudato quindi in questo caso l'unica cosa che si può fare è vendere delle gran colpi in alto però questo lo vedremo magari con gli opzionisti quindi sotto grafico volumi vi da i volumi scambiati per ogni time frame per ogni barra che andate a visualizzare al di sopra secondo del time frame il histogramma volume invece ha un comportamento un po' diverso ovvero tiene sempre conto delle variazioni di prezzo qua 2115 1625 eccetera eccetera ma vi va e il movimento è da sinistra verso destra ve lo vado a disegnare penna vediamo se riesco a essere bravo come Davide ok il movimento è questo e in pratica lui per ogni area di prezzo vi va a sommare quanti scambi sono stati effettuati quindi giusto per darvi un'idea di come funziona allora qua siamo in area per dire 2117 1750 qua sono stati scambiati i 100 contratti perfetto lui va a incrementarsi un po' poi passa il tempo quindi non è più schiavo della singola barra che sta affrontando passa un po' di tempo il titolo torna ancora 1750 perfetto vanno a giungersi verso destra gli scambi e così via vanno a riempirsi man mano che nel time frame che visualizziamo avvengono degli scambi lui mi va si va a spostare da sinistra verso destra Emanuele lo trovi da visualizza devo toglierla a birra se no non funziona più niente modalità normale visualizza histogramma volume spostandosi verso destra questo personalmente mi aiuta tantissimo perché è vero che qua ho tutti gli scambi per la singola barra ma qua ho tutti gli scambi che ogni area di prezzo e sta su quale ogni area di prezzo sono stati colpiti quindi da qua mi dà accesso due informazioni importantissime la prima è mi individua effettivamente le aree dove si sono concentrati la maggior parte degli scambi e quindi per quelli che sono amanti dei volumi mi vanno indicare vado a vedere se effettivamente sono scambi che sono stati frutto di una lateralità ad esempio in questo caso quest'area di prezzo qua potenzialmente il titolo ci è rimasto qua un'ora è anche normale fisiologico che ci sia un pochettino più di scambi rispetto alle altre zone o diversamente zone che colpite poco ma colpite da mani forti quindi da istituzionali e vi assicuro che se sono entrati loro vuol dire che loro sanno dove mettere mano e quindi è per noi una informazione importantissima per impostare la nostra operazione ma la cosa ancora più importante e soprattutto tangibile è che ovviamente la maggior parte degli indicatori che noi andiamo ad utilizzare vanno a trarre le informazioni da quello che è il prezzo quindi più un'area di prezzo sarà battuta giusto per farvi un esempio i mercati così schifosamente fiacchi diventa una cosa veramente quasi unilaterale ma con un minimo di volatilità vedrete che l'istogramma è molto più diluito e ci si trovano molto meglio quelli che sono i picchi queste aree di prezzo sono le stesse aree di prezzo in cui la maggior parte degli indicatori vi andrà a segnalare perché questo vi ho detto anche in preparazione del trading club gli indicatori non sono nient'altro che degli algoritmi che vanno su base statistica a seconda della natura di cui per cui loro sono nati che devono tracciare o una media mobile o l'intensità o l'RSI tutto quello che volete c'è una cosa da cui non scappano ovvero si vengono a disegnare in proporzione al movimento del sottostante quindi più un sottostante cioè un sottostante scusate il prezzo quindi più il prezzo va a stazionare sia per tempo che per intensità in una determinata area di prezzo più tutti gli indicatori che voi andate a mettere da quelli più comuni a quelli più artigianali andranno a confluire in queste aree di prezzo perché da qua non si scappa a meno che tirate dei fibonacci che vi fanno vabbè ovviamente delle proiezioni ma sono aree di prezzo che ancora non sono state toccate ma tutti gli indicatori che hanno come base il feed del prezzo vi renderete conto che vi rimanderanno a queste zone quindi cosa noi cosa possiamo fare senza diventare matti a cercare mille indicatori che tanto ci sappiamo già quello che faranno utilizziamo i volumi che ci rendono un grafico molto più pulito e soprattutto riusciremo a lavorare meglio senza cercare che tutti gli astri degli indicatori si vadano a accumularsi in un solo punto che vi assicuro che non succederà praticamente mai tutto chiaro? allora Tommy c'è un separatore di giornata tipo una linea verticale che mi fa capire quando è iniziata la giornata oddio guarda grazie già i volumi si lo puoi intuire tranquillamente come se fossero due porte che ti aprono e ti chiudono la giornata da qualche parte poi qua verrebbe buono il buon Davide ci dovrebbe essere un parametri grafico mostra intersezione tra 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 allora vediamo un attimino la trovo allora eccola qua se andiamo nelle configurazioni globali grafico mostra intersezioni tra i giorni di trading voilà applica e ok perfetto qua finisce la giornata e qua inizia un'altra allora Emanuele non ha l'istogramma volumice solo sulla piattaforma reale no no assolutamente guarda questa qua è la simulata quindi tranquillamente lo trovi probabilmente o hai impostato un sottostante che non lo prevede magari un coso valutario oppure hai impostato hai qualcosa di settato nelle visualizzazioni che non non te lo mostra un altro aspetto giusto per andare a colmare che me l'avete chiesto in diversi che è tra la data e l'S&P e in questi giorni si fa un pochettino fatica ad operare possiamo anche ripiegare vi ho già preparato la finestrina su quello che è il Nasdaq se vado un po' a muoverle diverse cose vedete che l'andamento dei due titoli è molto ma molto simile il Nasdaq semplicemente muove circa un decimo dei contratti che muove lo Standard & Poor ma dalla sua che ha una volatilità tra minimo e massimo molto più elevata infatti come vedete all'apparenza i due titoli hanno un movimento molto simile ma se guardiamo l'S&P ad esempio oggi ha fatto un minimo 23 e un massimo in area 31 che tra l'altro l'ha fatto stanotte comunque all'alba italiana il Nasdaq a parità abbiamo un minimo in area 22 e un massimo in area 40 quindi comunque sono circa il doppio del movimento che fa l'S&P questo è molto utile per noi perché comunque ci dà un maggior movimento sia in entrate che in uscita per ottimizzare i nostri trade ovviamente questo è data dalla natura dello strumento l'S&P va a raccogliere le 500 società più capitalizzate e importanti sul mercato americano quindi non è che ci sia la pinco pallina SRL che potrebbe saltare in area da un momento all'altro ma sono comunque dei colossi di conseguenza è il paniere più stabile in assoluto sul mercato quindi essendo comunque anche 500 titoli la curva statistica tende sempre ad allinearsi quindi potrebbe anche esserci un titolo che vi fa un meno 5% però tutti gli altri essendo stabili la differenza è sempre minima sul Nasdaq a parte che i titoli sono 100 seconda proprio per la natura del paniere siamo di fronte a titoli tecnologici quindi non dico che alcune sono start up però come sapete il campo della tecnologia è sempre insomma non è un'acciaieria sono sempre prodotti tecnologici che hanno mode hanno esplosioni hanno che un giorno Instagram viene comprato per miliardi di dollari quindi c'è sempre qualche oscillazione in più che nel complesso rende il titolo molto più dinamico pregi di effetti di ognuno perché comunque tradare il Nasdaq non è sempre semplicissimo perché il ripeto ha una bella volatilità e come giustamente anche Fausto mi va a sottolineare che c'è anche una notevole differenza tra il controvalore nominale che entrambi muovono quindi per lo standard Impur ogni movimento di prezzo quindi ogni TIC che è di 0,25 quindi da 2125 che adesso va a 2125.25 che è il movimento minimo è muove un 12,50 dollari di profitto barra perdita con il Nasdaq è decisamente inferiore siamo a 5 quindi meno della metà di conseguenza anche proprio in un'ottica di leve movimento è tendenzialmente più volatile però queste indicazioni come vedete data la quasi linearità dei due titoli possiamo anche effettuare operazioni non dico contrapposte però abbiamo diversi traders che lo vanno a strutturare che vanno a cogliere momenti di relativa debolezza di un titolo piuttosto che un altro per andare a impostare quelle che sono le loro strategie sempre per avere qualche input in più su come il titolo si sta muovendo vorrei porre alla vostra attenzione anche un discorso di scambi allora per valutare gli scambi possiamo analizzare diverse risorse la prima che la piattaforma ci mette a disposizione sono i time in sales i time in sales semplicemente cosa ci dicono quanti contratti sono stati mossi su un determinato titolo quindi in questo caso torniamo ve lo visualizzo da qua mantieni la finestra in primo piano e andiamo sul nostro S&P come tutti sapete il titolo si muove perché c'è domanda oppure c'è offerta questi si incrociano ad un prezzo il fantomatico midpoint ovviamente c'è un bide ask che deve esserci quantomeno uno spread di 0,25 perché la transazione abbia un effetto ovvero ci sia un differenziale tra domanda e offerta ma fondamentalmente tutto è come se fosse in un mercato reale c'è qualcuno che compra a fronte di qualcuno che vuole vendere i time in sales in maniera più dettagliata di un semplice grafico ci vanno a dire sia l'orario in cui è stato effettuato ovviamente il prezzo a cui è stato battuto e la quantità che è stata scambiata di conseguenza noi possiamo vedere situazioni in cui a vediamo quanto il titolo se è in un territorio di lateralità oppure è in un'area di prezzo abbastanza congestionata affiancandolo a un histogramma dei volumi possiamo anche notare che quando arriva in determinate zone dove guarda caso si erano concentrati molti scambi vedrete che anche i time in sales tendono ad impazzire perché ovviamente tutti gli indicatori vanno a confluire lì di conseguenza tutti i traders che vendono che il suo indicatore gli sta dando l'input vanno a colpire e piazzano il loro ordine quindi in queste zone qua c'è sempre un po' di bagarre e tramite i time in sales possiamo visualizzare anche questo dettaglio in modo che ripeto per quanto mi riguarda io che faccio prevalentemente in tre day non mi reputo un frate indovino semplicemente cerco di leggere il mercato così com'è il più possibile senza farmi influenzare da marchi ingegni tecnologici andando proprio alla fonte della domanda e l'offerta e da qua vado a improntare la mia operazione rialzo ribasso quindi semplicemente cerco di portare la percentuale della mia andando a analizzare più fattori possibili ok sono sono troppo tecnico allora giustamente si faccio sempre vedere l'applicazione pratica ma mai come effettivamente andarlo a prendere allora certo Gianluca lo andiamo subito a prendere allora mi prendo l'altro graph ok S&P tasto destro strumenti di analisi poi a seconda che ce l'abbiate in italiano in inglese comunque o orario di vendite molto maccheronico o timing sales e da qua lo andate a visualizzare c'è anche un'altra funzione che è prettamente inutile ma giusto per che sono i dettagli della quotazione semplicemente l'unica cosa carina che vi può dare sempre da dettagli quotazioni ultimo prezzo battuto la differenza in punti la differenza in percentuale il differenziale tra BDAS che ovviamente su interactive dandovi un accesso diretto a mercato sarà sempre di 0.25 o nel senso di un tick per quanto riguarda questo strumento questa sono è la quantità in bid e in asca in questo momento sullo strumento il minimo e il massimo di giornata cioè il massimo e il minimo vedete sono solo 10 punti e la media in base agli ultimi 90 giorni e vedete che vi assicuro che se lo guardavate anche solo un anno e mezzo fa era di circa un milione poco male dovremmo solo riadattare un attimo la nostra operatività ma fondamentalmente ripeto se sapete leggere il mercato alta volatilità bassa volatilità sinceramente ve ne frega poco allora ci fai vedere qualcosa sul book di negoziazione più che volentieri allora qua sulla simulata non ho la profondità di mercato quindi ve la devo far vedere sulla mia reale tac e eccola qua qua facciamo un ulteriore passo avanti ovvero fino adesso ci siamo concentrati solo sul passato perché per quanto mi riguarda una volta che io ho un grafico di qualsiasi time frame di qualsiasi strumento questo disegno che si viene a a formare è dato dalla domanda e l'offerta dagli scambi che vengono effettivamente scambiati e di conseguenza mi va a muovere il prezzo a rialzo o a ribasso questo ci dà statisticamente una gran mano perché come vedete si può entrare in un grado di dettaglio molto ma molto approfondito che ci aiuta senza diventare matti con troppi indicatori a intuire qual è il sentimento del mercato arrivate a determinate aree di prezzo estendibile cioè ideale per chi fa intraday ma estendibile in dinamiche ovviamente più blande non è che se io trado un'opzione devo guardare il sottostante per sei mesi quali sono stati gli scambi tutto va in proporzione però i volumi vi possono dare una grandissima mano anche in operazioni di medio barra lungo termine e ve l'ho dimostrato prima in caso per quanto riguarda una cosa che tanti tralasciano io invece ne ho fatto quasi la base di quella che è la mia operatività sono tutte quelle dei potenziali contratti che ancora non sono stati scambiati quindi non sono ancora diventati scambi veri e propri che vanno a sommarsi e ci danno il volume di giornata ma sono le proposte innanzitutto un piccolo ripassino sul book trader è uno strumento che possiamo attivare anche facendo tasto destro strumenti di trading book trader oppure dalla piattaforma madre lo andate a richiamare qua in alto quindi scegliete il vostro sottostante schiacciate book trader e vi si aprirà una finestra tipo questa chi ha attivato la profondità di mercato vedrà tutti i 10 livelli chi non ce l'ha attivata vedrà solo le proposte nel primo livello di bide in ask che è la stessa che vedete ve lo metto qua in primo piano qua allora dai vedo che il book vi piace quindi concentriamoci un attimino sul book allora bide ask ask è la prima proposta a cui io posso comprare quindi attualmente se voglio comprare l'S&P lo pago 2125 e 25 non si scappa e vedete che il prezzo attualmente è sull'ask tac tac ok e lo vedete anche qua bid è la prima proposta a cui io sono disposto a vendere in questo momento però sta battendo sull'ask e quindi io anche se adesso me lo becca sul bid vedete quindi l'ultimo prezzo battuto o è una media tra il bid e ask qualora lo spread lo preveda o a prescindere va a piazzarsi o sull'ask in caso di acquisto o sul bid in caso di vendita mi raccomando quindi non è che il broker vi vuol fregare e non vi prende l'ordine dovete sempre vedere se siamo sulla parte in acquisto o sulla parte in vendita bid e ask questi valori li ritroviamo esattamente in questa parte tutti questi numerini che si muovono alla velocità della luce non sono dei marchi ingegni messi qua dalla nasa per spiarci sono semplicemente i contratti in attesa di essere eseguiti quindi mentre questi qua che vediamo nei time and sales sono i contratti già scambiati quindi io Stefano Corvi compratore ho comprato un contratto dal signor Winzip dalla Cina e ce l'abbiamo qua contabilizzato l'exchange ha fatto il matching diciamo perfetto il prezzo è quello il contratto è tuo queste sono proposte ovvero io Stefano Corvi vado su un'asta da Cristis e dico questo è un quadro che voglio comprare io sono disposto a pagarlo 2.122 non di più e quindi io vado a piazzare la mia proposta questa è una proposta che ancora non ha ancora trovato una controparte rimane lì in attesa ecco tutti questi numerini sono le proposte che i traders di tutto il mondo vanno a piazzare per cercare di accappararsi il titolo a un prezzo più conveniente possibile quindi se io sono un compratore ovviamente se adesso il titolo è 2.125 io da compratore dovrò cercare di strapparlo a un prezzo migliore paragonatelo sempre all'economia reale quindi andrò a piazzare il mio ordine magari a 2.124 75 con la speranza quindi di prendere un prezzo un pochettino più basso e con l'auspicio che poi salga diversamente se sono un venditore qua è difficile da applicare all'economia reale però cercherò comunque di piazzarmi a un prezzo più alto possibile con l'aspettativa che il titolo scenda quindi una cosa che nessuno può esularsi almeno che uno butta un ordine a mercato e quindi si accontenta della prima proposta che sta battendo in questo momento il titolo in bide in asca che tra l'altro è anche altamente sconsigliato ma tutti dall'ultimo arrivato che potrà dare con mezzo contratto al milionario che di contratti ne può fare 200 non possono scappare da questa legge ovvero che almeno che io compro mercato devo piazzare il mio ordine e grazie al book noi possiamo andare a individuare dove bene o male anche qua mi perdonino i più tecnici lo so che ci sono gli ordini iceberg ci sono gli hft ma diciamo non è la seduta idonea per per andarli a scovare fondamentalmente diciamo il 95% delle situazioni da qua si passa e quindi oltre a la semplice analisi statistica sul grafico vedere il movimento vedere le candele vedere i time and sales vedere le quotazioni del contratto abbiamo anche un'ulteriore arma che è quella di vedere dove tendenzialmente i traders di tutto il mondo si stanno piazzando e questo non è che ci dice la verità assoluta ma sommata a tutti gli altri valori che abbiamo visto prima sicuramente male non fa per migliorare quelle che sono le nostre potenziali performance purtroppo per voi come mi scrivono alcuni no queste sono il numero di proposte queste vi tenete non ce ne sono di più in ogni caso ripeto anche qua non è che sia la scienza esatta perché io posso tranquillamente mettere un ordine da 50 e poi toglierlo all'ultimo momento vero anche che io non posso piazzare un ordine se non ho i margini quindi se dovesse entrare con 20 contratti io che ho un conto da 25 mila euro non me lo farebbe fare quindi potenzialmente chi lo mette diciamo c'è un po' la tendenza che effettivamente poi lo rispetti però vi è mai capitato di mettere un ordine e poi la situazione cambi e lo togliete chissà quante volte di conseguenza sono cifre molto variabili che tendenzialmente richiedono un occhio abbastanza abituato io sul book ci ho sputato sangue per un anno prima di andare a capire quelle che sono le anomalie perché come vedete sono 10 livelli da una parte 10 dall'altra con valore che cambiano anche abbastanza in maniera repentina coglierne le sfaccettature non è la cosa più intuitiva del mondo ecco perché per chi opera in volumi spesso ci si avvale di strumenti di terze parti che vanno un po' a ottimizzare quello che è il loro setup di lavoro quindi come vedete già interacti di per sé per chi vuole approcciarsi me l'avete chiesto in tanti anche perché stasera sono qua io e vuole approcciarsi al mondo dei volumi già potete immergervi a un buon livello per capirne quali sono le dinamiche che le vanno a regolare poi per chi vuole effettivamente fare il salto di qualità io personalmente prima usavo un software che si chiamava Sierra Chart che mi permetteva di andare a valorizzare determinate tendenze del mercato grazie ai volumi poi quando due anni fa ho fatto diciamo il mio primo percorso sui volumi che era un po' la sintesi di miliardi di operatività che avevo visto in questi anni su Interactive avevo tra i miei alunni due programmatori che hanno poi ricostruito quelle che erano le indicazioni che avevo dato all'interno del percorso andandole a strutturare in un software che poi è quello che conoscete come Alpha Snake Alpha Snake allora quello è un book verticale sì l'altro no non è presente allora come vedete anche qua devo ritagliarmi dieci minuti per chi mi ha chiesto qualche informazione in più su Alpha Snake mi raccomando inviateci le vostre domande così che poi non rischio di non riuscire a rispondere a tutti perché ovviamente devo dare la priorità a chi me le ha fatte sul forum allora con Alpha Snake cosa possiamo fare innanzitutto vedete la struttura del volume profile come abbiamo visto prima su interactive è stata ripercorsa stavolta in maniera un pochettino più dettagliata nel senso non ho più la classica visualizzazione a candela ma ho una visualizzazione degli ultimi 5 giorni posso decidere poi 5, 7 tutti quelli che volete su come si è mosso il titolo quindi accantoniamo un attimo il concetto di candela e vediamo come il titolo ha distribuito i suoi scambi nelle varie giornate c'è comunque una candela giornaliera che vi dice come effettivamente è andato ma i valori cruciali che ci interessano come vedete ci dice gli scambi totali di giornata e guardate che mortorio lo dico più che altro non per i nuovi ma per chi già lo segue da diversi mesi ma soprattutto la distribuzione in termini di volume del titolo abbiamo le aree più congestionate e aree invece dove il titolo vedete qua senza vedere un grafico normale cosa è successo in giallo il pre market quindi tutto ciò che succede dalla mezzanotte alle 3 e mezza del mattino qua il mercato è aperto tendenzialmente avrà aperto qua tutta mattina si sarà mosso qua dentro quotazioni aperte alle 3 e mezza avrà lateralizzato in quest'area qua e vedete che questa pancia sarà la classica lateralizzazione che non sapete da che parte andare finalmente guardate ha superato qua siamo in area 20 circa ha superato l'area psicologica dei 20 accelerata ecco perché vedete così pochi scambi e poi è andato a a come si chiama come posso dire rimpastarsi in area 23 24 ha avuto un'altra accelerazione e poi si è piazzato qua in area 26 dove praticamente è rimasto fino alla chiusura come vedete basta un attimino di occhio e le vostre sedute le riuscite a ricostruire senza tanta fatica ha riaperto in gap up perché il pre market ha riaperto qua a giornata successiva ma tendenzialmente è andato a riportarsi con una seduta molto fiacca a quelli che erano i valori della giornata precedente e così via quindi già da qua abbiamo un'idea sia se è stata una giornata bassa o alta volatilità perché vediamo sia il minimo che il massimo di giornata e in giallo evidenziato il pre market parallelamente vediamo anche se sono state vedete guardate la giornata di oggi come vi dicevo non è successo praticamente niente ha creato una pancia e non c'è stata mai la possibilità di fare un ingresso perché non è mai stato definito una tendenza invece qua abbiamo già un territorio un po' più diversificato con picchi di volume in determinate aree di prezzo e situazioni un po' più di accelerazione in altre parti di prezzo quindi da qua già ci facciamo un'idea di come il titolo si è mosso negli ultimi giorni e quali sono gli scambi che ci ha interessato ovviamente e qua si aprirebbe un capitolo estremo ma ve lo faccio giusto vedere allora tanto che le carica questi sono i temi e questo è il footprint l'avete mai visto una visualizzazione di questo tipo si 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 no si no un mix allora ve lo spiego il volo anche questo allora questo qua nasce dall'esigenza che come spiegavo anche l'altro giorno nella preparazione non mi accontentavo più di una normale candela perché comunque a mio avviso non dava il una giusta interpretazione a quello che era il il mercato cui stavo facendo riferimento o comunque il sottostante questo è un S&P di oggi facciamo solo di oggi oggi 5 minuti voilà tagliamo pure via la parte del premarket e andiamo dalle 15.30 in poi perfetto e lo andiamo a ridimensionare ok questo lo riduciamo un po' anche lui e lo mettiamo qua questo si chiama footprint che in inglese sta per impronta semplicemente semplicemente mica tanto si sostituisce alle normali candele che ci danno veramente queste qua sono in italiano candele apertura chiusura massimo minimo quindi le uniche quattro informazioni che ci possono dare è che questa candela ha aperto qua ha avuto un massimo qua si è mossa questo è il corpo ha avuto un minimo qua e alla fine è chiuso qua quindi abbiamo apertura chiusura massimo minimo e la possiamo e qua vi invito a farlo accompagnare a una parte che è questa che ci dice anche se è stata una candela che comunque ha avuto del peso in termini di scambi ci sono stati tanti acquisti barra tante vendite in questo caso vendite a differenza di altre candele un po' più anonime ma questo è il massimo che noi possiamo andare a individuare quindi noi sappiamo che il titolo qua ha iniziato a scendere a 26,50 è arrivato potenzialmente a 24 ma quello che è successo dentro non lo possiamo sapere con il footprint invece come vedete a ogni area di prezzo quindi a ogni tic 24,75 24,50 24,25 abbiamo questi numeri che non è che sono da leggere come anche qua la bibbia però riusciamo a vedere quanti contratti sono stati scambiati per ogni area di prezzo quindi non ho più la semplice candela verde o rossa con solo 4 valori ma ho una range bar per volume ovvero una barra che mi dà indicazioni su quanti contratti effettivamente sono stati scambiati con ciò non è che devo impazzire a vedere ah qua c'è un 3000 qua c'è un 2000 no assolutamente vedete che anche qua i riferimenti di volume li teniamo servono per capire dove a se sono strutturati gli istituzionali perché comunque in una chiave di lettura un po' diversa ma riusciamo anche a darle a individuare b se i minimi o barra i massimi di giornata sono veri i minimi e massimi ovvero dove c'è stata tanta sostanza tranne qualche presa di stop che riusciamo ad andare a vedere oppure è un minimo e massimo barra fuffa che basta che il titolo scenda un attimo e verrà demolito nel giro di due nanosecondi questa è l'importanza che ci dà il footprint quindi molte più informazioni rispetto a una normale candela che ci permettono di metterci a riparo da prese di stop barra situazioni palesi che una normale candela non ci potrebbe fare ci non ci potrebbe dare resterete sorpresi quando andremo poi a fare live trading che ci concentreremo su queste tipologie di barre effettueremo i nostri ingressi che andremo poi a vedere che sembreranno palesi perché mi dite ah beh è ovvio guarda qua che cumulo si è fatto era normale che il titolo andasse a riprendersi poi il quiz che faccio sempre che mi lascia sempre un po' perplessi e vi dico ok adesso andatemi a vedere quest'operazione in un grafico normale e vi assicuro che non si vede una beata fava di niente con ciò non dico che chi non usa i volumi è spacciato dico solo che io che vi assicuro che di operatività le ho provate praticamente tutte dall'intraday al multiday un grado di confidenza tale con quello strumento su cui andavo a operare non l'ho mai trovato con nessun'altra né modalità né indicatore quindi chiunque la voglia approfondire lo consiglio veramente perché è un gran bel mondo detto questo l'ultimo passaggio che è quello anche più ostico per chi si vuole approcciare al mondo dell'intraday è quello proprio che dicevamo di andare a monitorare quelli che sono le proposte che vengono effettuate sul titolo abbiamo visto che lo possiamo fare sul book quindi andando a vedere qua come si muovono le proposte se c'è una prevalenza di quantità bid o quantità ask come si muovono qual è la pressione eccetera e qua devo dire la verità era dove di solito mi impapinavo di più nel mio corso ma non perché non fosse in grado di spiegarmi semplicemente uno che è abituato a guardare un grafico normale e non operare dal book spiegargli che queste dinamiche come si muovono non è per niente semplice anche perché come vedete sono oscillazioni molto veloci e a un primo impatto uno dopo 5 minuti dice non ci ho capito niente ed è morde allora effettivamente era un po' difficile da trasmettere come riferimento allora questi bei genialoni dei nostri programmatori cosa sono andati a farmi hanno creato e da qua prende il nome del serpentone dello snake questo semplicemente cosa fa il titolo sta battendo 2125 e ve lo vado a zoomare eccolo qua che è visualizzato tutti i numerini che trovate qua in alto li ritrovate anche qua tutti i numerini che trovate anche qua in basso li trovate anche qua quindi loro cosa hanno fatto adesso ve lo vado a rendere un po' più sensibile così vi rendo partecipi della cosa vedete hanno creato ovviamente in bianco e nero perché altrimenti diventava una cosa da stile lsd sono andati a graficizzarmi una cosa che nessuno aveva mai graficizzato che erano le proposte quindi dato una determinata area di prezzo a seconda di del numero di proposte che sono in essere abbiamo una tonalità di grigio sempre più elevata fino ad arrivare praticamente al nero totale dove ci sono effettivamente molti scambi quindi non devo più impazzire a tenere in considerazione che sto guardando i temi in sales sto guardando i volumi devo guardare i book 10 proposti da una parte 10 proposti dall'altra verificare effettivamente che questi 600 magari improvvisamente mi diventano 1000 vuol dire che c'è qualcuno di tosto che sta entrando non ci penso più lo guardo a livello grafico lo vado ad affiancare a quello che è il mio book e a quello che è il mio footprint e quindi ci troviamo in una situazione in cui io riesco a monitorare l'andamento del titolo in maniera molto più dettagliata quindi non basandomi più solo sulle normali candele che abbiamo visto ci danno sì informazioni ma troppo poche se vogliamo essere dei cecchini a tutti gli effetti parallelamente mi va a semplificare di una vita la visualizzazione del book perché graficizzandomelo io riesco subito a vedere dove ci sono aree di prezzo in cui si sono concentrati molte più proposte rispetto alle altre e tornando sempre alle basi della domanda e dell'offerta nel momento in cui ci saranno più compratore che venditori vi assicuro che salvo qualche blef il prezzo tenderà a salire diversamente se ci sono più venditore che compratori il prezzo tenderà in questo caso a scendere perché ovviamente il concetto è ribaltato di conseguenza è importante per noi vedere nel momento in cui il titolo arriva in situazioni particolari che possiamo individuare come supporti o resistenze vedere effettivamente qual è la spinta dei compratori e dei venditori è da lì decidere se effettuare un'operazione a rialzo su una rottura di una determinata soglia o comunque un'operazione magari di inversione perché effettivamente ad esempio come in questo caso ci sono tante proposte 1.004 proposte in vendita se arrivo qua e i compratori sono solo 300 il prezzo non può continuare a salire ci sono più venditori ovviamente lo sbatteranno giù diversamente se arrivo qua vediamo che pian piano le proposte iniziano a erodersi 1.700 500 300 e qua continuano a pompare vi assicuro che il prezzo potrà solo salire facendo così eccovi quella che è la mia operatività in volumi e quello che io uso per effettuare le mie operazioni quindi Emanuele certo io non è che lo uso anche nelle operazioni di pochi minuti questo è il mio setup di lavoro solo nelle operazioni di pochi minuti perché tutto questo dettaglio ovviamente è dato per cercare nei primi minuti di mercato come sapete io sono molto pigro di cercare di strappare un trade che abbia le percentuali di riuscita il più alto possibile non che le ingarro tutte ovviamente ma da qua da dove mi tiro fuori la mia pagnotta in un campo quando ovviamente trado le opzioni non me ne frega niente sapere se due tic sopra c'è una concentrazione di scambio oppure no ne faccio una dinamica un pochettino più ampia e come abbiamo visto all'inizio per chi non fa intraday è inutile avere un software con tutti questi dettagli perché la finalità è molto più estesa allora in quel caso lì è inutile prendere tutte queste precauzioni per un opzionista va a dare un'occhiata negli ultimi sei mesi sottostante mette un paio di media mobili un'occhiata alla loro attività storica implicita e da lì quindi riesce a ottimizzare il suo ingresso perché sono ben altre le situazioni che deve tenere sotto controllo quindi diciamo che questo utilizzo sia della piattaforma tramite time and sales o per chi ce l'ha lo snake sono tutte ottimizzazioni fatte per ovviamente lì all'intraday allora angelo cos'è il grafico sopra lo snake non l'ho mai visto no perché sto usando una versione beta angelo ce l'avrai la settimana prossima tranquillo allora so che la mia domanda esola dal discorso piattaforma è possibile seguire un corso tenuto da testo di intraday si Enrico tornerò non preoccuparti adesso tra i time beta aspetto lunedì tra Europa e America alle 15 che quello comunque è aperto a tutti quindi vieni pure che ci divertiamo un po' e mi vedrete fare queste analisi e insieme andremo a trovare del le soglie sia rialzo che ribasso poi le lascio provare voi in simulata e testate voi con mano il la bontà della cosa poi sapete che io sono molto pigro già il fatto che mi abbiano messo qua a fare un webinar il venerdì Davide lo richiamiamo subito allora è possibile avere il footprint guarda su Interactive non te lo metto a disposizione Andrea l'abbiamo me l'hanno chiesto in diversi sul forum quindi l'ho fatto vedere perché mi avete chiesto com'è che opero ci sono tantissimi software approfitto anche per far vedere un discorso qua per Interactive Brokers che è strumento scusate è una piattaforma che è praticamente compatibile con tutti i software di terze parti del mondo andate sul menu configura API verificate che l'ActiveX sia attivato la porta solitamente la maggior parte dei software è la 7496 in quel caso andatela a settare a seconda se vi ne richiede una particolare e potete tranquillamente utilizzare il flusso dati che Interactive mette a disposizione e come abbiamo fatto esattamente noi in questo caso con lo Snake va a ciucciarsi il flusso dati di Interactive e vi va a graficizzare il tutto quindi Andrea il sito dello Snake è alfa4all.com slash alphasnake comunque lo trovi sia sul nostro forum che se fai qualche ricerca su internet diversamente ci sono tantissimi altri software che ti vanno a creare il footprint per quanto riguarda invece lo Snake la funzione che mi va a graficizzare il book io sinceramente non l'ho mai trovata da nessuna parte e personalmente lo reputo una gran figata che l'avessi avuto io vi ripeto mi avrebbe risparmiato più di un anno di disputare il sangue per cercare di trovare un approccio mentale per leggere il book ok allora andiamo a prendere anche qualche domanda no Nicoletta non sto usando Ninja allora Emanuele mi chiede sì ma senza tutti questi strumenti e solo con la piattaforma riesco a tradare guarda tutto è possibile Emanuele nel senso dipende sempre che grado di precisione vuoi ottenere e ovviamente che strada vuoi ritagliarti se lavori 12 ore al giorno e hai tempo solo la sera e puoi dedicare al mercato un paio di orette la settimana ti sconsiglio come la peste l'intraday ma di qualificarti come investitore e da lì quindi dare un più spazio all'operatività multiday se invece comunque ripeto io non è che stia tutto il giorno davanti a monitor dalle tre e mezza alle quattro comunque nella prima oretta di mercato o nell'ultimo oretta di mercato riesci a ritagliarti con un po' di concentrazione una mezz'oretta 45 minuti puoi fare delle belle cose non necessariamente con tutti questi strumenti un approccio un pochettino più base che non si possa operare ovviamente insomma il presupposto è visto che sono in mezzo soldi veri cercare di entrare in una zona di conforto che vada a aumentare quelle che sono le tue probabilità che il trade vada a buon fine allora poi ok vediamo un po' altre domande che mi avete fatto all'inizio il separatore giornaliero l'abbiamo visto l'istogramma volume Tania mi chiede l'istogramma volume non ci dà indicazioni sugli orari corrispondenti ai vari prezzi e dobbiamo comunque consultare anche il grafico normale sì allora se operiamo allora il grafico normale è frutto delle candele che visualizziamo sopra l'istogramma è completamente scorrelato da un arco temporale e ti va a visualizzare effettivamente solo quante volte l'intensità degli scambi in quell'area di prezzo quindi se ne sbatte altamente se questi scambi sono stati fatti le due del mattino tre del pomeriggio sette del pomeriggio è una semplice sommatoria da sinistra verso destra non quindi se vuoi capire effettivamente poi come si è mosso lo vai ad affiancare a un grafico normale tant'è che la stessa piattaforma non te lo dà da visualizzare da solo ma te lo dà in un'ottica proprio affiancata al normale grafico per capire effettivamente come si è mosso invece sullo snake riusciamo già avere una visualizzazione un po' diversa perché vi va in giallo a ridistribuire il pre market quindi sapete che tutto ciò che è successo è successo a mercati aperti e vi assicuro che dopo un po' quando ci fate l'occhio vi interesserà poco capire a che orario è stato fatto ma è l'importanza della consistenza degli scambi che prevarrà su quello che è l'orario ma un passo alla volta allora altre domande intanto scrivetele pure io sto andando a ritroso per vedere ok bella domanda di Emanuele allora abbiamo prima visualizzato un grafico dell'SMP e siamo stati su un time frame un pochettino più ampio non è che prima del 6 marzo non esistevano semplicemente stiamo visualizzando dei future quindi i future sono strumenti finanziari che hanno un inizio e una fine non è come l'azione che ci sarà fino a quando la società non fallisce o viene riassorbito o comunque si fonde per un atto sono proprio strumenti derivati che hanno una cadenza regolare per alcuni è mensile per altri è trimestrale e in questo caso per lo standard impur è trimestrale quindi abbiamo fondamentalmente tre scadenze che sono marzo giugno settembre e dicembre ora ve le aggiungo giusto per farti vedere la differenza la maggior parte degli investitori tranne per ragioni di copertura o sono un opzionista voglio coprirmi con un future va a concentrarsi sulla scadenza attuale perché comunque è a molto più scambi quindi è molto più liquida analisi tecnica molto più rispettata ma come vedi potenzialmente puoi andare a prendere anche scadenze molto più lontane semplicemente il future di giugno inizia a prendere diciamo diventare popolare tra gli investitori nel momento in cui il contratto precedente sta andando a morire quindi abbiamo detto che la trimestralità prima di giugno era quella di marzo i future scadono il terzo venerdì del mese quindi in questo caso sarà stato intorno al 18-19 marzo qua ufficialmente la scadenza di marzo è andata a morire e quindi vedi che già dall'inizio del mese nonostante marzo comunque stavano aumentando cioè erano ancora in piena contrattazione già alcuni investitori si sono spostati verso giugno e qua tendenzialmente è circa una settimana prima dove avviene in termini tecnici lo switch ovvero passo anche se l'altro future è ancora attivo per una settimana si tende a spostarsi già sulla scadenza successiva perché i volumi superano quello della scadenza precedente e quindi ecco perché è spiegato che all'improvviso da un giorno con l'altro tutti sono passati sullo strumento nuovo non è che sia successo qualcosa di particolare semplicemente l'altra scadenza stava morendo come vedete anche qua questa è già la scadenza di settembre non fatevi ingannare che ci siano questi picchi perché in realtà se ne andiamo a vedere vedete qua siamo a 2 milioni e qua siamo a 2.500 quindi sembrano botte alte ma in realtà sono scambi nulli sulla scadenza di settembre non sta agendo nessuno ve lo faccio vedere anche direttamente dal sito del simie che è l'organo che va a regolamentare i future tra cui l'S&P come vedete qua la scadenza di giugno che è quella più scambiata per quanto siano scambi da fame ieri 794.000 contratti la scadenza di settembre 4.000 contratti la scadenza di dicembre 220 addirittura marzo 1 e giugno 2 quindi ovviamente almeno che uno è un folle la scadenza su cui si va a tradare in intraday è quella corrente quindi quella più scambiata che ci dà tutta una serie di benefici che impiegherei un'ora a spiegarvi in ogni caso fidatevi per adesso allora vediamo qualche altra domanda allora Piero ho scaricato la piattaforma su surface ok se non sbaglio mi avevi chiesto prima il per quanto riguarda la dimensione dei caratteri giusto della piattaforma in generale anche qua sono incastrati da qualche parte allora in sempre allora quando dovete andare su qualche impostazione importante è tutto su configura allora generale vediamo un po' dove eccoli qua vediamo allora andiamo su visualizza stile e andiamo qua beh a parte l'impostazione del font ma non penso che gliene freghi qualcosa a qualcuno su dimensione carattere andate a impostare quello che è il font che volete questo è il mosaic che è l'altro tipo di visualizzazione della piattaforma e vedete qua per chi magari ha un tablet come in questo caso un tablet non perché c'è la mobile ha un dispositivo portatile che comunque abbia un sistema operativo tipo windows quindi ha tutti gli effetti scarica la piattaforma normale se sono troppo piccoli i caratteri può tranquillamente o agire da qua sul font che vi va a ingrandire tutto oppure tramite le configurazioni generali va a ingrandire o rimpicciolire quello che è la visualizzazione ok Piero perfetto allora Luca mi chiede è possibile vedere la funzione combinazione per creare strategie in opzione assolutamente anche qua ci sono miliardi di modi non voglio attenzione quello che vi farò vedere non è un'imposizione ognuno si ricava il suo stile è la stessa identica cosa quindi fondamentalmente c'è chi preferisce lavorare dall'option trader c'è chi preferisce che inserisce il ticker invio invece che andare su future in questo caso sull'SMP va su combinazioni e poi sceglie combinazioni di opzioni su future e da qua si seleziona ovviamente sottostante ES perché abbiamo analizzato l'SMP future option ovviamente non solo future altrimenti andate a fare uno future in spread classe di trading vi raccomando scegliete sempre quella normale anteriore queste qua sono le classiche traduzioni maccheroniche di interactive vai a muoverti per gradi dall'alto verso il basso e pian piano ti va a sistemare il tutto quindi ci diamo prima gamba seconda perché in questo caso è un calendar call output la distanza e gli eventuali strike adesso ho buttato lì delle cose da cacchio quindi non mi visualizzo un cavolo di niente diversamente vi va a a selezionare il tutto questa è la prima modalità che mi vado io a cercare le varie cose in base alla strategia diversamente da qua posso agire innanzitutto se acquistare o vendere la mia combo in ogni caso state tranquilli se siete nel dubbio sulla cosa perché a volte su strategie un po' più complesse tipo gli iron condor eccetera sono poi invertite vi danno valori negativi quindi non diventate matti con questo andate direttamente alla fonte nel senso mettete ciò che vi occorre e l'andate a creare per esempio facciamo un bel un calendar 2020 giuglio giugno aggiungi ok e questa è un'altra modalità oppure copia gamba per gamba vai tu a selezionarti tutto ciò che vuoi fare quindi se sai già che devi piazzare una adesso la vado a resettare è tutto copio gamba per gamba acquista perfetto io voglio comprare una call sull'S&P quindi ES opzioni vado a cercarmi il ovviamente prima la mia scadenza e poi il mio strike quindi luglio ha qua abbiamo le call qua abbiamo le put quindi abbiamo detto una call e la vado a cacciare qua dentro mettiamola lì a caso e vedete ve la va a visualizzare stesso discorso ci spostiamo sotto e la vai a creare anche da qua azioni ah si avevo ben sbagliato comunque e da qua la vai a creare puoi farla anche da grafico ok quindi perfetto lo voglio solo fare un appunto poi te la spiego anche da grafico questa è come vedete a prescindere dalle 200 modalità che vi ho fatto vedere alla fine vi appare un discorso tipo questo ovvero in alto il riepilogo della strategia con esattamente le due gambe che abbiamo selezionato e le due gambe sotto abbiamo un BDASC violetto BDASC ve l'ho spiegato prima quindi adesso dovremmo esserci che è un BDASC artificiale perché sui mercati finanziari non esiste il concetto di un calendar 2020 giugno agosto è una cosa che ci siamo inventati noi Interactive ve lo mette a disposizione perché ovviamente così vi evita di andare ad agire sulle singole gambe e vi dà la certezza di comprare barra vendere l'intera strategia ecco perché a differenza di un normale strumento finanziario quotato normalmente come può essere un piccolo nazione che vedete il rosso o il verde a seconda che l'ultimo movimento rispetto a quello precedente sia positivo o negativo qua vedete un pallino viola come per dire occio che sta cosa qua non esiste è frutto di un movimento delle due gambe che ci sono sotto infatti se semplicemente fate 123.75 meno 109.75 bene o male sia per questo che per questo avete il il differenziale di quelle che sono le due gambe ecco perché vi diciamo sempre soprattutto per chi fa opzioni ma anche per chi fa spread comunque strategie in combo di non accontentarvi mai del bide ask che strategia perché comunque sono cose manufatturate dalle due gambe cercate sempre di strappare un midpoint quindi piazzatevi sempre a metà 11.25 15.50 dategli un 13 perché metti che una delle due gambe ha un movimento improvviso riusciamo a portarla a casa a un gran bel prezzo e vi dirò di più anche in termini puramente commissionali e di liquidità del mercato ci sono il vi premiano se iniettate liquidità quindi se vi basate solo sul bide l'ask i mercati dicono ok tu mi stai andando a assorbire liquidità perché ci sono delle proposte qua tu le stai mangiando via se invece vai a creare nuova liquidità andando a metterti altro prezzo tu stai innescando nuova liquidità ovvero ti stai piazzando vi ricordate nella catena del book c'erano tutte quelle proposte ci sei anche tu con la tua perciò vai a creare uno scaglione intermedio tra il bide l'ask e io ti premio perché mi stai creando più liquidità sul mercato quindi fa pagare 2 o 3 centesimi in meno che comunque non sputiamoci sopra non tanto per le commissioni ma proprio perché cerchiamo di strappargli un prezzo migliore vi dicevo prima non preoccupatevi se diventa una questione di acquisto o di vendita della combo perché comunque se fate doppio clic avete accesso ai dettagli del contratto e quindi lui vi ricorda sempre oltre alle classiche informative relativo all'incremento del prezzo moltiplicatore e su dove ci stiamo muovendo e ovviamente gli orari importantissimi sia in caso di acquisto che in caso di vendita cosa andiamo a fare quindi qua se noi questo calendar lo andiamo a comprare vuol dire che compriamo agosto e vendiamo giugno in questo caso perché essendo un calendar sia il strike che la tipologia è uguale e se invece lo vendiamo al contrario vendiamo agosto e compriamo giugno quindi in base alla strategia che avevate in mente comprate o vendete a seconda di quello che vedete qua così siamo sicuri che non sbagliate la differenza Luca che l'ordine è stato eseguito adesso faccio una cosa che non dovrei fare perché ovviamente a mercato non si va mai come vi ho appena detto vediamo se me ne prende perché ho preso veramente delle cose allucinanti il fatto è che vai a mercato lo vedi che in posizione hai uno in questo caso e abbiamo trasmesso l'ordine hai il tuo prezzo medio che ti dice a che prezzo sei entrato e come vedete gli ho strappato un prezzaccio schifoso e sono già in netta perdita a prescindere che è un'opzione non è certo questa la finalità ma andate sempre sempre a midpoint in questo caso anche il BDA che vedete come è praticamente ancorato perché ho preso degli strike così allucinanti che comunque non è una gran strategia di per sé però vi renderete conto se andate su sottostanti un attimino un po' più strutturati che ci sarà un BDA ancora più dinamico quindi a maggior ragione approfittate di un eventuale midpoint Oreste mi chiede se per caso nelle nuove funzioni option strategy e option probability la possibilità di vedere il risk reward di una strategia senza doverla calcolare credo di sì Oreste e abbiamo fatto giusto la settimana scorsa con Andrea un focus su quelle quindi sinceramente non non lo so dove andarle a prendere non posso sapere tutto di tutte le strategie ti invito a guardare la sezione domanda risposta di venerdiscorso che sicuramente avrò risposta alla tua domanda perdona ma mi piace essere sincero non sono un allora partendo dal presupposto che oltre all'intraday il mio portafoglio è quasi interamente in opzioni ma sinceramente ho una gestione talmente passiva sulle opzioni non passiva che le trado poco passiva che avversa il rischio che non sto tanto lì calcolando i massimi sistemi del mondo ma avendo cola a casa di dio l'unico conteggio che devo fare è se il premio incassato è superiore alle commissioni pagate perché è un approccio proprio estremamente prudenziale che come sapete l'ho anche fatto vedere nei risultati l'anno scorso mi ha portato a un 9% e per quanto mi riguarda visto che lì ci sono fondamentalmente i miei risparmi che ho deciso di non metterne in banca né in fondi ma gestirmi lì è comunque sette volte di più il rendimento di una banca quindi mi bastano e mi avanzano quindi ecco perché la mia totale ignoranza su strumenti abbastanza avanzati in opzioni perché sinceramente non ne ho bisogno quindi ti invito a approfittare della prossima sessione con Andrea comunque venerdì scorso so che è andato molto nel dettaglio su questo allora Denis mi chiede qual è la colonna da inserire per vedere il mio prezzo per gamba con cui sono entrato in un vertical come in questo caso fai sempre riferimento ovviamente al prezzo medio se questa è la tua domanda se non ce l'hai che per caso lo hai cancellato lo cancello anch'io così vedo solo la posizione e nient'altro andiamo su una colonna qualsiasi senza schiacciare niente vi uscirà questa cosa oltre alla spiegazione anche inserisci colonne rimuovi la colonna chiave su cui avete premuto andiamo su inserisci colonne sarà prezzo e da qua andiamo a prendere ricordatevi sempre di allargare tutto allora no posizione profit and loss perché prezzi vedete qua ci sono troppe funzioni allora prezzi vi dai prezzi posizione profit and loss eccolo qua prezzo medio ti chiederà se vuoi applicarlo anche alle altre pagine ovvero il prezzo medio lo vuoi vedere solo nella colonna Stefano Corvi o Dennis nel tuo caso o in anche tutte le altre finestre che hai etichettato le vuoi vedere se metti sì te lo va a mettere a tutti se metti no te lo mette solo a questa e questa è la la tua domanda Dennis Marco ok allora volevo vedere il prezzo per gamba no allora non ti seguo posso prenderti il secondo microfono Dennis allora guarda scrivimela sul forum e Davide non mancherà di risponderti perché proprio non il prezzo per gamba c'è qua anche la buon Paolo che no no infatti non intendeva questo sulla singola gamba ok 18.55 signori siamo in dirittura d'arrivo quindi spero che vi abbia un po' appassionato la questo focus sul mondo dei volumi dell'intraday ce l'ho messa tutta per sintetizzarvi un po' quello che era il 10% delle varie funzionalità come vedete c'è tutto un mondo da scoprire comunque da lunedì ripeto adesso mi ha detto Marco che prima me l'avete sentito anche chiamare ha aggiornato il calendario degli eventi per la settimana prossima quindi andiamolo a vedere assieme che sarà una settimana ricca di iniziative sia nella sessione pomeridiana che serale eccolo qua voilà domani on demand grande attesa lo sa che aspettavate da mesi ci sarà il nostro Alberto quindi dalle 10 alle 18 stasera riposatevi una bella camomilla che domani alle 10 si parte alla grandissima poi addirittura Marco ti ringrazio ma domenica non non penso di farcela tra Europa e America quindi da lunedì riprendiamo gli appuntamenti in pre-market andremo a valutare esattamente come abbiamo fatto oggi sull'SMP ma anche con qualche bella soglia operativa per andare poi a operare lunedì signori inizia la nuova edizione del Trading Club quindi per tutti quelli del Trading Club oltre a domani inizieranno due mesi di trading dal vivo lunedì sera avremo una bellissima intervista dove conosceremo un po' più il lato umano del nostro top trader Patrizio Salvatore quindi le prime serate a partire dalle 9 Matteo Anelli intervisterà Patrizio Salvatore martedì ci sarà la presentazione del percorso sempre di Patrizio che vi assicuro che è qualcosa veramente di fantastico dopo il Berto è il nostro top trader di riferimento poi ovviamente il Trading Club prosegue e mercoledì sera visto che vi è piaciuto tanto si trada ancora dal vivo aperto tutti mercoledì sera in prima serata ci sarò io con i nostri top trader giovedì ci sarò io quindi saranno molto più tecnico di quello in cui sono stato oggi perché oggi devo necessariamente stare sul generico andremo a scoprire un po' una piccola finestra di quella che è la mia operatività quindi vi aspetto giovedì in prima serata puntuali che ci sarà da divertire se vedremo se riusciamo a fare anche un'operazione nella fascia serale e come di consueto venerdì prossimo se ci sono domande risposte sulla piattaforma sicuramente con Davide che a livello generale è molto più competente di me detto questo spero comunque di aver tenuto una sessione all'altezza delle vostre aspettative io auguro a tutti un caloroso buon weekend mi raccomando tutte le vostre domande scrivetele anche all'interno della community che così che potremmo rispondervi a tutti e quanti nell'evento di venerdì prossimo un caro saluto da Stefano Corvi e un buon fine settimana a lunedì ciao